Fulvia Adarossi, veterinaria, amica degli animali, amica di Telequattro, purtroppo la intervistiamo in un'occasione triste. Se n'è andato Giorgio Cocciani, aveva fondato Il Gattile. Che ricordo ha di Giorgio Cocciani? Un ricordo splendido di una persona buona, proprio il primo aggettivo che mi viene in mente è una persona buona che ha messo sempre del bene. Una persona, un uomo, che è riuscito a far andare d'accordo tante, non solo donne, ma gattare, che penso sia stata l'impresa più ardua di tutta la sua vita, che è riuscito a far del bene per queste creature in difese, sacrificando se stesso, sacrificando la sua vita e ha fatto diventare il suo lavoro l'amore per tutti quanti i gatti. Perché è una bella persona che ha fatto tanto del bene. Ha creato Il Gattile come struttura che è poi diventata un punto di riferimento per tutta Trieste, chi vuole adottare un gatto sa dove andare, insomma. Certo, e ha creato l'Oasi Felina, non dimentichiamo che anche quella è una sua creatura, perché al Gattile ci sono i gatti che possono pensare di essere reintrodotti in famiglia. All'Oasi Felina ci sono tutti quei gatti che per vari motivi hanno dovuto essere allontanati dalle loro spostazioni e hanno trovato un oasi, nel vero senso della parola, dove poter vivere serenamente protetti. Come aveva conosciuto Cocciani? Da giovane veterinaria, per cui si parla di vent'anni fa. Giorgio era una bellissima persona e quindi ti accoglieva in questo mondo fatto di cure e di sterilizzazioni da fare per evitare le cucciolate, per cui sempre nell'ottica di migliorare la qualità di vita dei gatti. E quindi quando andavo in Gattile o quando capitava di vedersi anche in comune per le varie manifestazioni benefiche, perché dobbiamo anche poi pensare che non era soltanto un amante dei gatti ma della musica lirica, dei quadri, del bello, una persona colta oltretutto, era sempre un piacere. Era lavoro ma era sempre piacere.